Si svolgerà domani 4 novembre alle ore 10 e 30 presso il monumento civile della casa del combattente nella villa comunale di Corso Vittorio Emanuele un momento celebrativo e commemorativo in occasione della giornata nazionale dell'unità e delle forze armate per ricordare il valore eroico ed il sacrificio umano delle numerevoli vittime dell'eccidio bellico durante gli anni della grande guerra. L'evento si terrà in modo sobrio e contenuto in considerazione delle vigenti normative di contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 e vedrà la presenza oltre che dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra anche dei vertici militari delle forze dell'ordine territoriali e dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba che per l'occasione offrirà la consueta corona di fiori alla memoria dei caduti. A coronamento dell'alto momento istituzionale scandito dal solo suono della tromba, il primo cittadino procederà poi allo scoprimento di una lastra di marmo bianco posta sulla facciata dello storico e restaurato edificio Casa del Combattente, celebrativa della ricorrenza del centenario del milite ignoto al quale l'amministrazione comunale della città di Torre del Greco ha conferito la cittadinanza onoraria. Il 4 novembre, le parole del sindaco Palomba, rappresentano un giorno importantissimo per la nostra memoria storica e per la coscienza identitaria dell'Italia intera. Quest'anno si unisce un'altra importante ricorrenza, ovvero il centenario del milite ignoto, il cui valore è etico, sociale e culturale, abbiamo il dovere di trasmettere e consegnare ai nostri giovani, affinché mai più possano ripetersi gli eccidi di cui l'umanità, nel corso della sua storia, si è purtroppo macchiata. Abbiamo con prontezza accolto l'invito a conferire la cittadinanza onoraria al milite ignoto, quale espressione di profonda solidarietà umana verso la memoria dei nostri caduti, senza riconoscimento, e di tutti quelli che hanno offerto la vita per la causa della nazione. Grazie